Quattro giovani volontari della misericordia di Quarrata sono stati i protagonisti questa notte di un salvataggio che ha del miracoloso. Passata la mezzanotte l'equipaggio dell'arci confraternita è intervenuto nel soccorrere una donna di 40 anni originaria del Montenegro in completo arresto cardiaco. Intervenuti nella sua abitazione in frazione Olmi, i volontari sono riusciti con un defibrillatore a rianimare la donna che è stata quindi trasportata all'ospedale del Ceppo per poi di qui essere ricoverata a Careggi in rianimazione. I volontari che vedete nella foto si chiamano Valentina Olivi, Dimitri Salvadori, Francesco Giovannetti e Patrizio Pasticci. Per il loro intervento i volontari hanno ricevuto una lettera di encomio dal direttore del 118.